Gli agenti immobiliari professionali hanno scelto il EMAX, il Museo delle Arti del XXI secolo, per il loro evento FIAP 4.0. Nell'auditorium del moderno edificio FIAP è presente i suoi servizi più innovativi per gestire i rapporti con la clientela e l'agenzia immobiliare. La location è stata scelta come simbolo di creatività, dinamicità e innovazione, tre parole chiave che esprimono la strada intrapresa dalla federazione che, meno di due mesi fa, ha rinnovato il Consiglio nazionale. Durante l'incontro, che ha riempito la sala ed è stato seguito in streaming da tutta Italia, sono state presentate le novità che da subito accompagneranno e semplificheranno il lavoro degli associati FIAP. Presentato la nostra piattaforma, la piattaforma unica sposata da FIAP, ovvero il Gesti FIAP, una soluzione omnicompressiva di più funzionalità e di più aspetti, quale per esempio un gestionale immobiliare che aiuti l'agenzia a gestire la propria attività a 360 gradi. All'interno abbiamo presentato la nostra piattaforma MLS, infine abbiamo presentato il Real Price, ovvero il nuovo strumento di valutazione. Mettiamoci ad inventare il domani invece di preoccuparci di ciò che è accaduto ieri. È la frase di Steve Jobs che il presidente Gian Battista Baccarini ha scelto come sintesi dell'intenso pomeriggio. L'innovazione digitale è un cambiamento e come tale richiede uno sforzo, ma apre opportunità uniche. Gli agenti immobiliari, sempre più in rete tra loro, con i clienti, con tutti gli attori dell'ecosistema immobiliare, sono pronti a far crescere la qualità tecnica del servizio che offrono, senza rinunciare al lato umano di una professione basata sulla fiducia tra le persone. È così importante perché inizia per noi, per la nostra federazione, un percorso di innovazione tecnologica che è orientato a dare degli strumenti operativi, diciamo, degli strumenti pratici ai nostri aderenti, ai nostri associati, che abbiano una ricaduta positiva per l'utenza, per la comunità. Quindi agevolare il nostro servizio che sia orientato poi a dare tranquillità, a dare garanzie ai contraenti. L'insieme dei servizi che oggi sono stati presentati, quelli che verranno implementati, dovranno accompagnare i nostri associati, la figura dell'agente immobiliare in un mercato immobiliare digitalizzato, dove la risposta all'esigenza del cliente dovrà essere esattamente come quella che noi ci aspettiamo dai tablet o dai smartphone. Il futuro è oggi, la digital transformation della FIAE ormai è in atto e per gli agenti immobiliari fare rete, creare un nuovo paradigma relazionale è fondamentale a tutti i livelli e soprattutto tra professionisti del mercato immobiliare. La trasformazione digitale mette a disposizione strumenti impensabili fino a pochi anni fa che permettono di non sprecare tempo e occasioni. Noi oggi presentiamo il servizio di prequalifica del cliente fatta anche online, quindi la possibilità in tempo reale di contattare i nostri consulenti abilitati OAM, quindi abilitati a fare la consulenza, contattabili quindi via web che danno in pochi minuti la prequalifica, quindi la prefattibilità del mutuo. Le reti digitali cambiano le prospettive e persino quelli che un tempo erano i concorrenti si trasformano in alleati come è accaduto per esempio con la piattaforma Airbnb. Nella rete degli agenti immobiliari ci sono le banche, gli amministratori di condominio, proprietari di case e molti altri interlocutori. Noi siamo a fianco di FIAIP in queste azioni, sia nel loro rinnovamento interno, cioè nei rapporti con gli associati e degli associati con i clienti, sia nei rapporti fra di noi, quindi sono tutte cose interessanti. Anche le proposte legislative che stanno proponendo proveremo a sostenerle per quanto possibile e marceremo insieme anche a livello territoriale dove c'è tanto bisogno di collaborazione, soprattutto per i contratti di locazione a canone calmerato che prevedono delle sinergie fra di noi. FIAIP 4.0 vuol dire che la FIAIP sta facendo un grande sforzo e io credo che sia particolarmente importante per portare l'innovazione nel settore degli agenti immobiliari e quindi non perdere un'occasione che è storica da tanti punti di vista. Da una parte perché chiaramente l'innovazione rischia di sostituire attraverso le macchine il professionista, ma se invece il professionista è bravo, è un professionista con la P maiuscola che è competente sulla propria materia ma anche sul piano umano, nessuna macchina potrà sostituirlo. Dal 15 novembre sono anche partite le iscrizioni alla federazione per l'anno 2018. Grazie per la visione!